Maestro Chico, albergatore de Preville, arrestò il suo Tilbury dinanzi alla fattoria di mamma Megloire. Era un robusto uomo di quarant'anni, rosso e ventruto, e godeva fama di uomo assai scaltro. Attaccò il cavallo ad un palo dello steccato e si avanzò nell'aia. Possedeva un podere confinante con le terre della vecchia Megloire, delle quali agognava di diventare il padrone. Venti volte aveva tentato di acquistarle, ma la Megloire si era sempre ostinatamente rifiutata di venderle. «Vi sono nata, vi morrò», diceva. La trovò in tenta a sbucciare le patate dinanzi alla porta. In età di settantadue anni, lei era magra, grinzosa, curva, ma instancabile come una giovane. Chico le batte amichevolmente una mano sulla spalla, poi le si sedette vicino su uno sgabello. «Ebbene, mamma, la salute va sempre bene? Mica male. E la vostra, Mastro Prospero? Eh, qualche piccolo dolore. Senza questi sarebbe una meraviglia. Bene». Lei non disse più nulla. Chico la guardava compiere la sua bisogna. Le dita di lei, adunche nocchiute, dure come zampe di granchio, afferravano a guise di branche i tuberi grisastri da un canestro, rivoltandoli con destrezza e togliendo loro lunghi lembi di buccia con la lama di un vecchio coltello che teneva nell'altra mano. E quando la patata era diventata tutta gialla, la gettava in un secchio d'acqua. Tre galline ardite venivano una dopo l'altra sino alle sue gonne a bezzicare le scorze. Poi fuggivano frettolose, portando nel becco il loro bottino. Chico sembrava seccato, esitante, ansioso, con alcunché sulla lingua che non voleva uscirgli. Si risolse infine. «Dite, mamma Megluar, questa masseria, non volete ancora vendermela? Quanto a questo no, non contateci. È già detta, è già detta, non insistete. Il caso è che ho avuto un accomodamento che farebbe al caso nostro. Quale? Ecco, ve la vendete e poi ve la tenete ugualmente. Non capite? Ascoltatemi». La vecchia cessò di sbucciare tuberi e fissò l'albergatore negli occhi vivi sotto le palpe bergrinzose. Lui rispose «Mi spiego. Vi darò 150 franchi al mese. Intendete bene. Ogni mese vi porterò con i mio tilburi 30 scudi da 100 soldi. E poi non vi sarà nulla di cambiato, nulla di nulla. Resterete in casa vostra, non vi occuperete punto di me e non mi dovrete nulla. Non farete che prendere il mio denaro. Vi va?» La guardava con aria allegra, di buon umore. La vecchia lo considerava con diffidenza, cercando il tranello. chiese «Questo è per me, ma a voi questa masseria non la darei». Lui riprese «Non datevi pensiero di ciò. Rimarrete nel vostro fondo fino a tanto che il buon Dio vi lascerà vivere. Siete in casa vostra. Soltanto mi farete una piccola carta dal notaio perché dopo di voi ogni cosa venga a me. Non avete nessun figlio, nient'altro che dei nipoti, ai quali non tenete punto. Vi va? Conserverete la vostra proprietà vita natural durante e vi do 30 scudi da 100 soldi ogni mese. È tutto di guadagnato per voi». La vecchia rimaneva sorpresa, inquieta ma tentata. Ribatte «Non dico di no. Soltanto voglio riflettersi. Tornate a parlarmi nella settimana ventura. Vi darò una risposta». E Mastro Cicò se ne andò, contento come un re che abbia conquistato un impero. Mamma Meguar rimase pensierosa. Mamma Meguar rimase pensierosa. Non dormì per quella notte. Per quattro giorni ebbe una febbre di esitazione. Fintava qualche cosa di poco buono in quella faccenda, ma il pensiero dei 30 scudi al mese di quel bel denaro assonante che sarebbe caduto così dal cielo la struggeva di desiderio. Si recò allora dal notaio e gli narrò il suo caso. Questi la consigliò di accettare la proposta di Cicò, ma di chiedere 50 scudi in luogo di 30, la sua masseria valendo dir poco 60.000 franchi. «Se vi farete 15 anni», disse il notaio, «egli non la pagherà ancora in tal modo che 45.000 franchi». La vecchia remette a quella prospettiva di 50 scudi al mese, ma diffidava sempre, temendo mille cose impreviste, astuzie nascoste, e rimase fino a sera a fare domande, non potendo risolversi ad andarsele. Ordinò al fine di preparare l'atto e rincasò turbata come se avesse bevuto quattro vagi di sidro novello. Quando Cicò tornò per conoscere la risposta, lei si fece lungamente pregare, dichiarando che non voleva, ma attormentata tuttavia dal timore che lui non consentisse a dare le 50 monete da 100 soldi. Infine, poiché lo insisteva, lei annunciò le proprie pretese. Lui ebbe un sussulto di delusione e rifiutò. Per convincerlo, lei si pose allora a ragionare sulla durata probabile della propria vita. Non ne avrò che per 5 o 6 anni, ne ho quasi 73 e non sono troppo in gamba. L'altra sera ho creduto di essere alla fine. Mi sembrava che mi vuotassero il corpo e bisogna portarmi a letto. Ma Cicò non si lasciava persuadere. Via via, vecchia esperta, siete solida come il campanile della chiesa. Vivrete per lo meno 110 anni. Sarete voi che mi seppelirete. Certamente. Tutto il giorno fu perduto in discussioni, ma poiché la vecchia non cedeva, l'albergatore accondiscese a dare i 50 scudi. Sottoscrissero l'atto l'indomani e mamma Megluar pretese 10 scudi di mancia. Tre anni trascorsero. La buona donna stava d'incanto. Non sembrava invecchiata di un giorno e Cicò si disperava. Gli pareva di pagare quella rendita da mezzo secolo, di essere ingannato, derubato, rovinato. Andava di tanto in tanto a far visita alla massaia come si va a vedere in luglio, nei campi, se le messi sono mature per la falce. Lei lo riceveva sempre con una specie di malizia nello sguardo. Si sarebbe detto che lei si congratulasse con se stessa del bel tiro che gli aveva giocato. E lui risaliva subito nel suo tilburi, borborando, non creperai dunque mai, vecchia carcassa. Non sapeva che fare. Avrebbe voluto strangolarla ogni qual volta la vedeva. La odiava di un odio feroce, sornione, di un odio di contadino derubato. Cercò allora un mezzo. Un giorno al fine ritornò a visitarla, fregandosi le mani, come faceva la prima volta quando le aveva proposto il contratto. E dopo aver parlato qualche minuto fece. Dite un po', mamma, perché non venite a pranzo a casa mia quando passate da Epreville? La gente mormora, dice che non siamo più amici, e ciò mi fa dispiacere. Sapete, da me non pagherete nulla. Non vado a un pranzo. Quando vorrete restare servita, venite senza cerimonie. Ciò mi farà piacere. Mamma Megluar non se lo fece ripetere. E posto mani, già che andava al mercato nel suo calesse condotto dal garzone celestino, affidò il cavallo allo stallatico di Mastro Chicot e reclamò il pranzo promesso. L'albercatore raggiante la trattò come una signora e servì pollo, sanguinacci, cotechino, cosciotto di castrato e lardo coi cavoli. Ma ella non mangiò quasi nulla, essendo sobria fin dall'infanzia e avendo sempre vissuto con poco. Si consisteva, deluso. Lei nemmeno beveva. Rifiutò di prendere il caffè. Lui disse, accetterete allora un bicchierino? Ah, questo sì, non dico di no. E lui gridò a pieni polmoni. Rosalie, portami l'acquavite, di quella sopraffina. E la domestica apparve, tenendo una lunga bottiglia ad orna di una foglia di vite. Riempì due bicchierini. Assaggiate questa, mamma. È tra le più squisite. E la buona donna prese a bere ad agio a piccoli sorsi, assaporando lentamente. Quando ebbe bevuto il bicchierino, lo sgocciolò. Poi disse, sì, è proprio di quella fina. Non aveva ancora finito di parlare che Cicoli versava un altro bicchierino. Lei vuole rifiutare, ma era troppo tardi. Vuole fargliene accettare un terzo, ma il resistette. Lui insisteva. Questo è latte, vedete. Io ne bevo dieci, dodici, senza imbarazzo. Passa come zucchero. Nulla allo stomaco, nulla al capo. Si direbbe che svapori sulla lingua. Non vi è nulla di migliore per la salute. Poiché lei era tentata, cedette, ma non sordì che la metà del bicchierino. Cicoli allora, in uno slancio di generosità, gridò. Guardate, da che vi piace, ve ne darò un barilotto per dimostrarvi che siamo sempre amici. La buona donna non disse di no e se ne andò un po' brilla. L'indomani l'albergatore entrò nell'aia di mamma Magloire, traendo dal fondo del barroccino un bariletto cerchiato di ferro. E volle, seduta stante, farne assaggiare alla vecchia il contenuto, per provarle che era la stessa fine acquavite bevuta il giorno prima. E quando ne ebbero sorbito ciascuno tra bicchierini, egli disse andandosene. E poi, sapete, quando non ve ne sarà più, ve ne sarà ancora. Non fate complimenti, non sono spilorcio. E risalì nel suo tilburi. Ritornò quattro giorni dopo. La vecchia era dinanzi alla sua porta, intenta a tagliare il pane per la zuppa. Lui si avvicinò e augurò il buongiorno. Le parlò dappresso sotto il naso per fiutare il suo alito. E riconobbe un soffio d'alcol. Allora il viso gli si illuminò. Mi offrite un bicchierino, fece. Trincarono insieme due o tre volte. La voce corse in breve nelle vicinanze, che la mamma Megluar si ubriacava spesso. Veniva trovata a volte a terra, in cucina, talora nell'aia, talora sui sentieri dei dintorni. E bisognava portarla a casa, in arte come un cadavere. Cicò non si recava più a trovarla. E quando gli si parlava delle contadine, mormorava con viso triste. Non è una sciagura alla sua età, aver preso questa abitudine. Vedete, quando si è vecchi, non vi sono rimedi. Ciò finirà per giocarle un brutto tiro. E ciò le giocò, infatti, un brutto tiro. Mamma Megluar morì l'inverno seguente, verso il Natale, essendo caduta ubriaca nella neve. E Mastro Cicò ereditò la fattoria. Se non si fosse ubriacata, dichiarò poi, ne avrebbe avuto ancora per dieci anni.